Cremona, terra di agricoltori e di liutai, simbolo di artigianalità, del saper fare e di passione per il proprio lavoro. Qui a Cremona ci siamo noi. Noi siamo quelli che si svegliano prima del sole, siamo quelli che si prendono cura della terra e delle sue creature. Noi non conosciamo il weekend o i giorni festivi, perché noi, ogni giorno, siamo qui. Siamo qui a lavorare con passione, siamo qui per portare cibo sulle tavole di tutto il mondo. Un lavoro dietro le quinte, fatto di poche parole, dette sottovoce. Oggi, però, vogliamo far sentire la nostra voce, con pacatezza, ma con grande decisione. Uniti come una grande orchestra, dove ogni strumento, anche il più piccolo, riveste un ruolo fondamentale. Vogliamo che la nostra voce sia come una melodia, che dalle nostre amate campagne arrivi fino al centro delle nostre città. Per portare un messaggio semplice e chiaro. La zootecnia non si ferma.